Eccoci qua, secondo video del giorno dopo aver parlato della gara che si è giocata ieri tra Cagliari e Como parliamo di calcio al mercato come avrete sicuramente già letto questo nel titolo parliamo di Gaston Pereiro Gaston Pereiro che lascia il Cagliari direzione Montevideo, direzione casa, direzione nazionale di Montevideo appunto operazione che si è chiusa, cioè notizia che è arrivata praticamente ieri sera sul Tardi ma che probabilmente si è chiusa nella giornata di ieri lui che era in panchina ma che probabilmente già sapeva della sua partenza operazione che comunque è in prestito, quindi prestito semestrale quindi Pereiro tornerà al Cagliari nel luglio del 2023, alla fine della stagione cosa si può dire? a me a primo impatto mi viene da dire era ora ok? era ora Gaston è arrivato qua dall'Olanda con tante buone speranze nel gennaio del 2020 con sicuramente tanti buoni numeri cioè in Olanda ragazzi, Gaston Pereiro era un giocatore che faceva 10 gol e 10 assist faceva double-double, ok? il fatto è che qua Cagliari non ha mai trovato il giusto feeling non ha mai trovato una collocazione tecnico-tattica buona non ha mai trovato il feeling neanche con i ritmi di questo campionato del campionato italiano in generale, che sia Serie A o Serie B e quindi poi c'è da dire che con tutti gli allenatori che ha avuto quindi Maran, Zenga Semplici Mazzarri e anche lo stesso Liverani Pereiro è sempre stato spostato di ruolo insomma tra la tre quarti l'esterno la seconda punta attacco insomma ha fatto diversi ruoli qua a Cagliari ma non ha mai trovato la giusta collocazione non è mai stato continuo e forse questo è il suo più grande limite il fatto di non essere continuo dal punto di vista delle prestazioni forse il suo momento migliore è stato appunto nell'inizio dell'anno scorso insomma quando segnò diversi gol tra gennaio e febbraio dell'anno scorso quindi 2022 e poi però lì si è rispento di nuovo ha segnato mi sembra quella doppietta contro l'Atalanta il gol contro il Napoli mi ricordo il gol contro contro il Bologna al novantesimo e poi l'ultimo suo gol Euro goal contro il Como che ci aveva fatto pareggiare il match d'andata il primo match di questa Serie B poi qualche altra partita poche gare comunque dal primo minuto il giocatore che è soprattutto subentrato anche in questo campionato in Serie B adesso a pensarci mi viene complicato anche pensare a una sua ultima parizione a titolare forse quella contro il Pisa non vorrei sbagliarmi però ragazzi non è mai stato protagonista forse anche lui non si è mai sentito veramente al centro del progetto non si è mai sentito non ha mai sentito quella fiducia veramente che magari ha provato in Olanda poi i ritmi in Olanda sono sicuramente diversi e lui qua in Italia non si è mai trovato secondo me lui qua in Italia non si è mai trovato perché è un calciatore molto tecnico molto molto tecnico e questo gli va detto un giocatore che tecnicamente è fortissimo ma che fisicamente ragazzi non corre non ha non ha quel passo che può fare l'esterno non ha quel dribbling abbinato alla velocità che può insomma permettergli di saltare l'uomo di continuo cioè a me sembra un giocatore faccio un po' un paragone forse un po' pesante però Fabian Ruiz ok Fabian Ruiz quando è arrivato al Napoli con tante speranze pagato tanto da Real Betis giocatore che avrebbe dovuto spaccare tutto ragazzi alla fine Fabian Ruiz era un giocatore normalissimo in quel Napoli era un giocatore normalissimo con tanta tecnica ma molto lento per i ritmi del campionato italiano adesso tra l'altro anche al Parigi San Giornale sta facendo fatica per quanto mi riguarda quindi capite bene che tutti questi calciatori che hanno tutta questa grande tecnica nel campionato italiano però deve avere anche una certa una certa intensità e noi ci lamentiamo spesso del fatto che in Italia i ritmi sono bassi e tutto quanto ma se questi calciatori non rendono e hanno ritmi ancora più bassi capite bene insomma che probabilmente il ritmo qua in Italia non è così basso come si dice detto ciò tornando a Pereiro sicuramente gli può fare bene un ritorno a casa magari anche in un campionato che comunque ha visto anche il ritorno di Luis Suarez e quindi adesso Suarez è andato non gioca neanche più al National è andato in Brasile però comunque ritrova un ambiente familiare un ambiente che lo ha cresciuto che lo ha portato insomma a emergere poi nel calcio europeo ma che non so quanto poi potrebbe tornare qui con tutta quella voglia insomma di di dimostrare che abbiamo sbagliato a cederlo cioè adesso poi mi viene da dire ma ci voleva Ranieri ci voleva Claudio Ranieri per capire che questo calciatore non serve a questo Cagliari non serve non serve un calciatore del genere perché anche Liberani Liberani ci ha provato anche a puntare cioè cosa ho detto in italiano forse non è corretto quello che ho detto però ha provato a puntarci su Pereiro inizialmente in ritiro si parlava di Pereiro nelle amichevoli si parlava tanto di Gaston Pereiro sul fatto che fosse finalmente al centro sul fatto che fosse finalmente titolare ma ragazzi cioè poi si vede nelle partite che contano Pereiro non è mai stato decisivo non è mai stato decisivo io posso essere soltanto contento di questa operazione anche perché ci liberiamo forse di parte dell'ingaggio perché Cagliari pagherà parte dell'ingaggio però non tutto un po' lo pagherà anche il nazionale quindi meno male ci liberiamo anche un po' questo monte ingaggio almeno per sei mesi e magari potremmo investire su magari una riserva in attacco che potrebbe magari far rifiatare un po' la padula e pavoletti e magari anche fare insomma quel tipo di di ballottaggio magari anche con l'uvumbo capite un po' quindi niente questo è ciò che penso io di nella cessione di Gaston Pereiro fatemi sapere cosa ne pensate io vi saluto forza Castelo sempre e ciao ciao Grazie a tutti